Musica Rieccoci cari telespettatori ben ritrovati, vi presento subito i nostri ospiti, ben arrivato Fulvio Adalzio, segretario SPI CGL Venezia, grazie di essere qui con noi. Grazie a te e a tutti i telespettatori. In rappresentanza quindi dello SPI e Silvana Fanelli, segretaria CGL del Veneto, invece la CGL, quindi parliamo anche di certe peculiarità, di sua competenza ben ritrovata. Grazie, ben ritrovati a tutti. Allora, in prossimità delle prossime feste, abbiamo il 25 aprile e poi il primo maggio, sono due tematiche che riguardano molto da vicino, interessano molto il sindacato, che si vede anche coinvolto in alcune iniziative. Però, incominciamo con Fulvio Adalzio, vogliamo di spiegare ai nostri telespettatori la valenza attuale, quindi collocata nel contesto attuale di queste date, per spiegarle, per ricordare quali sono i valori che sottendono i ricordi, quindi anche un fattore di memoria, come si viene sempre a ricordare anche lo SPI CGL. Da un lato parliamo di liberazione, poi parleremo di antifascismo, di Costituzione, della natura della Costituzione di cui si è parlato anche molto in questi giorni, ma non soltanto, ma lo vedremo poi nel prossimo di trasmissione. Allora, il 25 aprile che cos'è? Cosa ricordo in modo particolare, da un lato per tutti i cittadini, ma dall'altro in modo particolare per il sindacato? Il 25 aprile è come dice la stessa festa, è la festa della liberazione dalla dittatura nazifascista che per quanto riguarda il nostro paese ha visto purtroppo per più di 20 anni la dittatura fascista e poi l'entrata in guerra nel 40 a fianco di Hitler, dei nazisti e poi dal 43, dall'8 settembre 43 con l'occupazione a seguito dell'armistizio fatto dalla monarchia e dal governo con gli alleati, c'è stata l'occupazione da parte delle truppe naziste e poi la Repubblica di Salò, insomma. Io tengo a sottolineare che il 25 aprile è la festa, come dicevo, della liberazione e però è la festa indubbiamente di tutto il paese perché tutti hanno conosciuto gli orrori della guerra ma anche gli orrori dell'occupazione nazifascista. Io l'anno scorso il 25 aprile ero in un paese dell'Abruzzo dove nel 43, l'Abruzzo era attraversato allora dalla linea Gustav, c'è un paese, Limmari, che è stato teatro di una strage veramente abberrante, dove sono stati uccisi più di 200 persone, in gran parte bambini, donne e anziani perché gli uomini erano scappati perché altrimenti li avrebbero presi e portati in Germania, deportati in Germania. Quindi ecco, è una festa anche direi orizzontale perché riguarda, ripeto, tutta l'Italia e a cui tutti hanno reso possibile appunto la liberazione del nostro paese. Indubbiamente il ruolo importante l'hanno avuto le truppe alleate, però gli italiani dopo il ventennio fascista e la tragedia della guerra hanno, come dire, preso in mano il loro destino, insomma, perché non aspettare che siano le truppe alleate a liberarti, ma uomini, donne, lavoratori, giovani, l'esercito, tutti in sostanza hanno dato il loro contributo per la liberazione, per il riscatto del nostro paese. Quello che poi ha permesso a De Gasperi, alla conferenza di pace a Parigi di dire, sì, sono qua, ringrazio per la benevolenza, ma era la dignità che il paese aveva riconquistato pur essendo anche nella conferenza di pace un paese sconfitto perché poi l'Italia è stato questo. Per cui ecco il 25 aprile è poi una data indissolubile con la festa del 2 giugno e il 27 dicembre del 47 quando entra, quando De Gasperi, componente cattolica, De Nicola, componente laica e Terracini, componente della sinistra, firmano la costituzione che viene poi entra in vigore il 1 gennaio 48. Queste tre date sono inevitabilmente legate le une all'altra. Non si può festeggiare il 2 giugno, festa della Repubblica, senza festeggiare o cercare di limitare o di nascondere o addirittura di non ricordarla più, di stravolgere il significato. Ripeto, se si festeggia il 2 giugno bisogna festeggiare anche il 25 aprile. Non a caso quando viene istituzionalizzata la festa del 25 aprile, viene istituzionalizzata assieme alla festa del 2 giugno. Il 2 giugno del 46 c'è stato il referendum Monarchia-Repubblica dove vince la Repubblica, insomma, proprio gli istituzionalizzati avvengono contemporaneamente. E comunque il 25 aprile è stato festeggiato anche nel 46, c'era ancora la Monarchia, nel 47 e nel 48 e poi mi sembra, insomma, il 49 dipende da quando è stata promulgata la legge. Quindi sono tre date che sono legate indissolubilmente le une con le altre. Il lavoro ha dato un contributo fondamentale alla liberazione, perché in Italia nel 43-44 è stato l'unico paese in cui si è scioperato in piena occupazione nazista, è stato l'unico paese in Europa in cui i lavoratori hanno scioperato. E a questo proposito, se ne avete l'occasione, andate a vedere Binario 21 a Milano dove ci sono le impronte, insomma, ci sono delle lapidi inserite per terra dove proprio venivano caricate le persone per poi essere deportate nei campi di concentramento. Ci sono tutti i treni dove sono partiti la data e la destinazione. Ce ne sono due lapidi vicine e sono i due treni destinati a Mauthausen in cui sono stati rinchiusi i lavoratori che avevano scioperato, perché tanti lavoratori che hanno scioperato sono poi stati deportati nei campi di concentramento. Questo era l'anno? Questo nel 43-44. Il 43-44, insomma, il lavoro ha dato un contributo fondamentale. Poi il 25 aprile, quindi la festa della libertà, ma è della liberazione, perché ci siamo liberati, ripeto, dal regime nazifascista. Il 25 aprile, perché Aldo dice 26 per 1, è il fonogramma che il Comitato di liberazione nazionale Alta Italia, tra cui c'era anche un certo Sandro Pertini, poi Presidente di questa Repubblica, non di altro, di questa Repubblica. Era il fonogramma in cui si dava l'ordine dell'insurrezione, perché anche l'insurrezione doveva essere preparata e doveva essere, come dire, avere un esito positivo, insomma, perché se si faceva troppo presto il rischio era che magari le truppe nazifasciste riprendessero il sopravento. Se si faceva troppo tardi il rischio era che arrivavano gli alleati. Invece la stragrande maggioranza delle città, Milano, Genova, Torino, Padova, anche se è cominciata il 28 di aprile, insomma, piazza dell'insurrezione. Insomma, si è riusciti, come dire, gli italiani hanno, si sono presi il destino nella propria mani e hanno liberato le città e praticamente il nord Italia. Poi ci sono stati anche altri episodi, insomma, penso le quattro giornate di Napoli, insomma, che sono state un evento nella storia assolutamente rilevante. E quindi il 25 aprile è scolpita nel nostro paese, nella nascita della Repubblica Democratica. L'articolo 1 della Costituzione, l'Italia è una repubblica, 2 giugno, democratica, perché è, come dire, democrazia è esattamente l'antitesi del fascismo, l'opposto del fascismo è democrazia, quindi l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, cioè il lavoro che sostiene l'impalcatura e l'istituzione democratica di questo paese, insomma. Quindi ecco, il contributo che ha dato... E quindi questo vi vede legato come sindacato, naturalmente, quindi questo è un po' il termine. Infatti qui vediamo una Costituzione antifascista, è l'altro aspetto su cui si è dibattuto, alcuni sostengono, ma la parola antifascista nella Costituzione in sé per sé, in modo così chiaro non è menzionata, però di fatto tutta la Costituzione ha un suo asset ben preciso, no? È antifascista perché? Perché oltre a essere contro il fascismo, che se vuoi è anche banale dirlo, nel senso che lo dice la parola stessa, però come giustamente e correttamente hai detto tu, i valori, cioè essere antifascista significa essere portatore, spendersi, credere nei valori che sono sanciti nella Costituzione, ovvero i valori sono quali sono? Libertà, il fascismo è stata una dittatura, la giustizia sociale, il fascismo è stata corporazione e disuguaglianze, è lavoro, è pace, l'Italia, tanti sostengono che il fascismo aveva come obiettivo la guerra, insomma come scopo, adesso io non entro in un dibattito storico, ma insomma la pace è esattamente l'opposto della guerra, del conflitto, solidarietà non è razzista, quando invece ricordiamo tutti cosa è successo con le leggi razziali di questo Paese, la Costituzione è attraversata da valori che sono l'esatto opposto di quelli che erano i valori fondanti del fascismo, per questo io credo che non si può definire, non definire antifascisti, antifascisti ripeto significa credere in quei valori che sono scolpiti nella nostra Costituzione. Donna Fanelli, queste sono parole importanti, poi dette proprio da chi rappresenta l'ospice CGL, sono percepiti e sentiti, e lo chiedo proprio a lei, come CGL, quindi il target dei lavoratori che comporta anche persone estremamente giovani, che possono avere non assolutamente memoria diretta, alcuni neanche indiretta perché magari non hanno assolutamente i genitori che possono aver vissuto determinati momenti, mentre la generazione precedente o addirittura è riuscito a viverlo di riflesso, proprio ha avuto la famiglia coinvolta, per cui rescono scolpiti certi fatti, è percepito come tale, oppure è soltanto una festività, e quindi come viene vissuto questo nell'ambito anche della rivendicazione di altri diritti, che si raccontava, questa data in particolare? Allora, quello che diceva Fulvio, la memoria storica è un elemento importante perché è chiaro che passando il tempo, come diceva lei, si riducono le persone che l'hanno vissuto sulla propria pelle, per questo è importante continuare a parlare, a leggere e a insegnare la Costituzione, facendo capire che non è un documento nato in quel momento che non ha legami con il presente e con quello che succede poi e che è successo nella vita della Repubblica. Quando Fulvio dice che l'articolo 1 dice che è una Repubblica fondata sul lavoro, sta dicendo che il lavoro è l'elemento che consente la dignità della persona, che consente la libertà della persona, che consente di costruire un futuro per le giovani generazioni alla persona. Naturalmente la Costituzione e tutto ciò che si richiama alla Costituzione deve creare quelle condizioni perché si parli di un lavoro buono e che consenta di rispettare questi principi che sono dentro la Costituzione, che nasce in seguito a un momento storico in cui queste cose che noi diamo per scontate non erano scontate, c'è il bisogno di scrivere il diritto alla salute, il diritto all'asilo politico, il diritto all'istruzione, che ripeto rischiamo di dare per scontato e perché scontato non lo era, non lo era per l'universalità dei cittadini e delle cittadine di questo Paese, era riservato ad alcuni, a coloro che aderivano a quella ideologia, gli altri perdevano quei diritti. Chiaro, adesso torniamo su questi aspetti perché dopo diventa anche importante spiegare, far capire quali diritti possono essere messi a rischio, proprio perché dati per scontati, proprio perché sta cambiando rapidissimamente il mondo del lavoro, quindi qui ci passiamo poi dal 25 aprile anche al primo maggio naturalmente. Pubblicità a pochi secondi, poi siamo di nuovo con voi.